sovente per divertirsi gli uomini di equipaggio prendono degli albatri vasti uccelli di mare che seguono indolenti compagni di viaggio le navi che scivolano sugli abissi amari appena deposti sulle tolte questi re dell'azzurro maldestri e turbati lasciano pietosamente trascinare al loro fianco le grandi ali bianche come fossero reni come sinistro e fragile questo viaggiatore alato lui prima così bello come comico e brutto l'uno solletica il suo becco con una dura pipa l'altro mima zoppicando l'infermo che volava il poeta è simile al principe dei nevoli che abita la tempesta iride dell'arciere esiliato al suolo in mezzo ai fischi le sue ali da gigante gli impediscono di camminare ecco questa è la poesia di Baudelaire che si intitola l'albatro intanto questa poesia è dedicata a un uccello un uccello marino che appunto l'albatro l'albatro è conosciuto per avere una vasta apertura alare può raggiungere mi sembra anche i sei metri quindi è un grande uccello che è abituato a seguire i pescherecci nell'oceano atlantico quindi in mare aperto li segue e poi si nutre degli scarti che i pescherecci buttano in mare di che cosa parla questa poesia parla del fatto che i pescatori i marinai di questi pescherecci si divertono con questi albatri li catturano li catturano probabilmente con le loro reti perché gli albatri arrivano abbastanza vicino al peschereccio e una volta che li hanno catturati si divertono giocherellano con questo albatro prendendolo in giro noi diremmo oggi che fanno una sorta di atto di bullismo nei confronti di questo animale e dice questa poesia che questi marinai li stuzzicano e poi il poeta conclude facendo un paragone tra l'albatro e il poeta e dice che il poeta è simile al principe dei nembi cioè a questo re dell'azzurro che quando si trova nel suo elemento cioè nei cieli abita la tempesta e ride dell'arciere quindi è consapevole della sua forza e della sua capacità di sfuggire alla tempesta e di sfuggire anche a chi lo vuole catturare però quando viene esiliato al suolo cioè quando viene catturato da questi marinai in mezzo ai fischi quindi in mezzo ai giochi di scherno che questi marinai compiono nei confronti di questo albatro le sue ali da gigante gli impediscono di camminare questo sostanzialmente quello che dice la poesia adesso vediamo invece che cosa significa più nello specifico quindi rileggiamola e cerchiamo di analizzarla sovente per divertirsi quindi per divertirsi lo fanno questo è specifico proprio non lo fanno per altro motivo che sia il divertimento e lo fanno anche sovente cioè lo fanno spesso gli uomini di equipaggio quindi marinai di questi peschirecci prendono degli albatri vasti uccelli di mare come ho spiegato prima appunto la loro grande apertura all'area immaginate dei gabbiani più più grandi che seguono indolenti compagni di viaggio quindi c'è quasi un tono amichevole sono dei compagni di viaggio indolenti perché è come se seguissero questi peschirecci come un'abitudine un po annoiati così in modo non attivo diventano dei compagni di viaggio di questi peschirecci ora le navi quindi questi peschirecci scivolano sugli abissi amari che cosa sono questi abissi amari beh qui abbiamo una metafora importante molto interessante se voi pensate che i marinai i marinai quindi gli uomini di equipaggio potrebbero rappresentare la popolazione cioè la gente comune le navi potrebbero rappresentare il loro destino quindi quello che loro stanno compiendo nella loro vita che compiranno e il loro destino diciamo così la loro vita scivola sugli abbassi sugli abissi amari quindi è una vita che porta poi alla fine se vogliamo alla morte la vita finisce nella morte e comunque è una vita difficile una vita fatta anche di dolori fatta anche di malattie di problemi che si susseguono quindi è una vita che scivola su abissi amari ecco possiamo interpretare questa parte così quindi è come se questi albatri seguissero come compagni di viaggio queste persone la cui vita scivola su abissi amari quasi senza che se ne rendano conto la nave va la nave va e queste persone non si rendono conto del destino che incombe su di loro oppure diciamo ignorano i fatti della loro stessa vita che appunto amara in ogni caso questi marinai depongono gli albatri sulle tolde quindi appena deposti sulle tolde questi re dell'azzurro è importante questo perché l'albatro viene identificato come una specie di leone leone re della foresta l'albatro del re dell'azzurro re dell'azzurro vuol dire che essendo anche un monarca un aristocratico anche dei modi aristocratici di fare infatti è bello vederlo volare molto elegante però appena deposti sulle tolde quindi appena catturati questi albatri diventano maldestri e turbati turbati sono chiaramente in preda all'ansia preoccupati vorrebbero liberarsi e sono maldestri sono maldestri perché si muovono in uno spazio piccolo loro erano i re dell'azzurro ma adesso si muovono in uno spazio molto piccolo e allora cosa fanno lasciano pietosamente trascinare al loro fianco le grandi ali bianche come fossero remi cioè alla fine non riescono a utilizzare le loro ali meravigliose per volare ma diventano un freno al loro movimento e quindi le trascinano sulla nave come se fossero dei remi e allora Baudelaire dice com'è sinistro e fragile questo viaggiatore alato quindi che sguardo tetro sinistro che ha e com'è fragile anche no lui che sembrava così imponente sicuro di sé ora è proprio fragile e debole di fronte a questi soggetti e infatti Baudelaire dice lui prima era così bello e adesso com'è comico e brutto qui possiamo fare una riflessione interessante perché possiamo dire che si è belli non solo per una questione estetica ma anche perché ci si muove con un certo stile ci si sente a proprio agio e gli altri lo vedono in un determinato ambiente quale ambiente beh l'ambiente nel quale noi ci troviamo bene noi ci sappiamo muovere adeguatamente allora possiamo suscitare interesse anche nelle altre persone e il nostro stile la nostra eleganza perché quando ci muoviamo nel nostro ambiente ci troviamo a nostro agio e quindi esprimiamo anche una certa eleganza beh allora agli occhi degli altri possiamo apparire anche molto più belli di quello che la nostra espressione estetica ci potrebbe far sembrare l'uno dice l'uno sarebbe uno di questi marinai solletica il suo becco cioè il becco dell'albatro con una dura pipa cioè proprio vedete come si diverte l'albatro è lì questo marinai arriva con la sua pipa e gli fa il solletico sotto il becco dell'albatro e l'altro mima zoppicando l'infermo che prima che volava cioè che prima volava quindi un altro marinaio cosa fa lo prende in giro mimandolo no fa lo zoppo fa lo zoppo come se l'albatro fosse un infermo cioè un malato che prima volava ora notate l'ironia di questa cosa perché è chiaro che un albatro non noterà il fatto che il marinaio si prende gioco di lui zoppicando perché lui non si rende conto di zoppicare lui sa solo di essere in una situazione nella quale non si può muovere quindi è ridicola questa situazione perché è come se il marinaio si rivolgesse a una persona a un altro essere umano perché perché l'albatro sa di essere nell'impossibilità di muoversi si si trova nella situazione in una situazione dalla quale vorrebbe uscire ma non può rendersi conto del fatto che ci sono questi marinai che lo imitano come se fosse un malato e quindi è curioso perché sembra che questo marinaio invece si rivolga a un essere umano e non a un albatro infatti che cosa dicono poi gli ultimi quattro versi di questa poesia dicono che il poeta è simile al principe dei nembi il poeta chi è il poeta è chiaramente baudelaire perché ha scritto la poesia ma il poeta è considerato l'artista cioè chiunque abbia a che fare con l'arte un pittore un cineasta che all'epoca non esistevano ancora naturalmente ma chiunque abbia a che fare con l'arte il poeta è simile al principe di nembi cioè sembra un albatro curioso come mai il poeta è simile al principe di nembi quindi vuol dire che tutta questa poesia quindi l'albatro tutta questa poesia in realtà non ci parla di un albatro ma ci parla dell'artista e dice che l'artista è come un albatro perché dice questo perché baudelaire spiega che l'artista abita la tempesta cioè quando l'artista vola in cielo ride della tempesta quando nel suo mondo quindi quando nel suo mondo di creazione quando produce quando è ispirato quando si dedica alla sua arte a lui non interessa quello che succede intorno a lui perché è talmente coinvolto in quello che fa che non si fa distrarre ed è in grado di affrontare qualsiasi cosa la sua passione la passione che lui è prova al suo interno lo mette in grado di affrontare qualsiasi problematica non teme niente non teme la fame infatti se voi conoscete alcune storie di grandi artisti saprete che hanno trascorso magari una vita miserevole magari per gran parte o per tutta la loro vita non ha affronta problemi affettivi del cuore affronta problemi lavorativi sapete che tanti artisti sono stati depredati truffati magari dei loro stessi rappresentanti o dei mercanti d'arte oppure non sono stati riconosciuti nel loro valore quindi l'artista trascinato dalla sua passione non teme di affrontare i problemi e di pagare le conseguenze per le sue scelte dunque abita la tempesta e ride dell'arciere ora chi è l'arciere l'arciere quello che tira le frecce l'arco e le frecce e a diciamo che l'arciere tira le frecce all'albatro parliamo per esempio di un cacciatore un cacciatore che vuole uccidere questo albato per catturarlo il poeta che cosa fa ride dell'arciere cioè ride di chi ride di chi lo vuole catturare ora chi mai vorrebbe catturare l'arciere beh per esempio i critici d'arte per esempio chi si occupa d'arte che scrive dice bottler è uno che non merita di essere pubblicato perché è un poeta arrogante anche volgare persino pornografico in alcune circostanze e quindi lo dobbiamo censurare ecco il poeta ride ride della censura ride di tutti quelli che lo vorrebbero impallinare come si dice cioè mettere alla berlina criticare impedire che lui eserciti la sua arte no il poeta eserciterà sempre la propria arte non conoscerà ostacoli e ride di coloro che vorrebbero imbavagliare l'arte ma questo capita dice bottler solo quando il poeta crea la sua opera ed è immerso nel suo mondo di creazione perché se viene esiliato al suolo quindi se viene catturato riportato tra gli esseri umani in mezzo ai fischi quindi questi esseri umani che fischiano il poeta cioè che non lo capiscono se voi avete qualche conoscenza di arte sapete che grandi esposizioni magari di pittori di scultori di artisti sono state osteggiate dal grande pubblico fischiate presi in giro derise questo è capitato molto spesso nella storia dell'arte quindi lui dice quando l'albatro viene catturato esiliato al suolo cioè viene sta in mezzo alla popolazione e la popolazione lo fischia quindi non lo capisce non capisce l'arte le sue ali da gigante gli impediscono di camminare lui non è più in grado di muoversi perché ha delle ali troppo grandi per potersi muovere in mezzo agli uomini cioè vuol dire che l'espressione dell'arte è così elevata l'arte è così grande fa l'artista un uomo un gigante come dice bottler tale da non poter essere presente in mezzo agli uomini da non poter vivere in mezzo a loro perché l'umanità non capisce fondamentalmente non capisce l'arte e quindi la sua grandezza è troppo è troppo grande per degli esseri umani così piccoli ignoranti dozzinali meschini che se la prendono con l'arte vedete l'uno sollettica il suo becco con una pipa l'altro mimma zoppicando l'infermo che volava questo è il popolo e la gente comune che si prende gioco dell'artista e l'artista è troppo grande per farsi trascinare con con loro ed essere catturato dal popolo quindi noi ci chiediamo di che cosa parla questa poesia e le risposte come al solito sono su due piani il primo è il più semplice questa poesia parla racconta una storia che è quella di un albatro che viene catturato da degli uomini di equipaggio che lo prendono in giro perché non riesce più a muoversi sulla nave e il poeta poi dice che l'artista è simile all'albatro perché quando viene catturato sulla terra portato in mezzo all'uomo comune che lo deride non può più muoversi non può più camminare perché è troppo grande la sua arte per poter vivere in mezzo agli uomini questo è il primo significato quello che appare alla poesia ce n'è un altro invece che ci parla che è un significato che viene interpretato che deriva dall'interpretazione delle metafore che sono inserite in questo testo e che ci parla del ruolo dell'arte l'arte che cos'è l'arte l'arte è qualcosa che per essere prodotta si deve distaccare dagli esseri umani si deve distaccare dalla vita quotidiana di tutti i giorni deve aspirare delle mete più ampie rispetto a quelle che sono destinate agli esseri umani che viaggiano su navi che scivolano su abissi amari cioè il cui destino è un destino che deve essere che sarà portato a termine attraverso la fine della loro vita in effetti l'arte non ha fine l'arte non muore l'opera d'arte vive in eterno e questo è già una prima differenza l'artista è immortale non morirà mai perché vive attraverso la sua opera e già questo distingue l'artista dalla gente comune chi produce qualche cosa lo produce qualche cosa di artistico quindi riconosciuto come tale lo produce per i secoli a venire noi oggi leggiamo le opere degli antichi drammaturghi greci guardiamo osserviamo compiaciuti le loro sculture i pittori dell'ottocento piuttosto che dei rinascimenti mosaici romani e così via l'arte vive nel tempo mentre gli uomini viaggiano su navi su navi che scivolano su abissi amari perché la loro vita è amara piena di problemi di difficoltà mentre l'artista invece vive in un mondo che il mondo fantastico che lui ha creato e che un mondo che trasmetterà agli uomini per sempre quindi questa è una differenza fondamentale e se passiamo poi alla conclusione dobbiamo notare che forse possiamo dire che è bene che l'artista sia lontano dagli uomini perché se l'artista vivesse la vita di tutti i giorni e fosse a contatto continuo con l'umanità verrebbe deriso non compreso l'arte è incompresa perché l'arte anticipa qualche cosa che l'uomo comune non può capire e quindi l'artista deve difendere la sua libertà perché stando in mezzo agli uomini verrebbe catturato catturato di riso preso in giro cioè sarebbe imprigionato vedete che qui come sinistro è fragile questo viaggiatore alato che trascina le grandi ali bianche come fossero remi qui Baudelaire ci dice che l'albatro è imprigionato l'artista è in prigione l'uomo mette volentieri gli artisti in prigione li imprigiona li incatena li impedisce di esprimere loro la propria libertà ora questo era vero ai tempi di Baudelaire tant'è che il governo dell'epoca censurava i suoi testi e le sue poesie ma è vero anche i giorni nostri ci sono ci esiste ancora la censura per esempio la censura pensate che esiste ancora in italia ci sono ancora dei film che vengono tagliati e censurati ma fino a qualche decennio fa nel dopoguerra anche negli anni 60 70 80 esisteva proprio una commissione censura che tagliava a man bassa i film italiani per esempio un film come ultimo tango a parigi voi pensate che non solo è stato censurato un grande film con marlon brando diretto da bertolucci non solo è stato censurato ma addirittura sono state bruciate le pellicole originali che sul quale il film era stato stampato se non sbaglio se ne è salvata solo una dalla quale poi sono stati fatti i duplicati ed è questo il motivo per cui noi oggi possiamo vedere ultimo tango a parigi per esempio credo su netflix o su prime l'ho anche rivisto recentemente fra l'altro e la cosa è ridicola tanto più che è inaccettabile ridicola tanto più che quello che veniva censurato 40 anni fa oggi può essere tranquillamente visto perché la censura si basa su usi e costumi che poi cambiano su modi che cambiano che passano si basa su valori morali su pretesi valori morali religiosi eccetera che fanno il tempo che trovano e poi vengono superati quindi ciò di cui parla Baudelaire è qualche cosa che esiste noi in storia stiamo studiando abbiamo concluso la seconda guerra mondiale c'erano i regimi fascisti all'epoca il regime staliniano in unione sovietica erano delle dittature che impedivano agli artisti di esprimersi non solo impedivano gli artisti di esprimersi ma obbligavano gli artisti a esprimersi in un certo modo cioè dovevano elogiare il regime nelle loro opere dovevano diventare degli artisti di regime è un'assurdità totale e qua ci dice Baudelaire che lui rifiuta l'arte rifiuta qualsiasi costrizione la costituzione italiana nel suo articolo 33 dice che l'arte e la scienza sono libere e libero nell'insegnamento nessuno può impedire all'arte di esprimersi e nessuno può impedire a un insegnante di insegnare e quindi di insegnare anche l'arte e questa è una conquista del dopoguerra perché appunto l'Italia usciva da una pesante feroce dittatura e quindi riacquistava la sua libertà di espressione e la restituiva agli artisti che quindi oggi possono godere appunto di questa libertà salvo il fatto che però una censura in Italia esiste ancora oggi piuttosto blanda ai nostri tempi ma esiste e ci sono tanti altri paesi in cui si esprime anche questa censura le opere vengono bruciate e messe al rogo quindi Baudelaire ci parla dell'arte e del ruolo dell'artista l'artista deve essere distaccato dal mondo ma allora noi ci potremmo chiedere ma scusate ma allora l'artista si crede un po come dire nel linguaggio che usate voi oggi se la tira l'artista cioè uno che se ne sta lì nel suo mondo guarda tutti dall'alto in basso come se l'essere umano valesse meno di lui come se avesse questo atteggiamento l'artista questo atteggiamento aristocratico non è bello no questo fatto beh diciamo che non è bello però è uno strumento di difesa dell'artista sicuramente e comunque è vero che l'arte deve guardare le cose del mondo da un punto di vista più generale non può esserne fagocitata perché se l'artista fosse preda dei problemi dell'umanità fosse schiacciato dai problemi dell'umanità non avrebbe la possibilità di esprimersi perché dovrebbe pensare ad altro e invece deve essere lasciato libero di osservare con distacco quindi il distacco dell'artista dalla gente comune diciamo così è un bene che aiuta la sua ispirazione e aiuta l'artista a produrre le sue opere